E ragazzi, come va? Io sono Fereniki E io sono Stefe, che si giochiamo a Roblox E oggi siamo su Robloxian High School Una delle mappe più giocate del momento E abbiamo chiesto a Espy Giochi e Luca di farci compagnia anche in questa mappa Perché ovviamente non è che potevamo fare da soli i professori e gli alunni, mi sembra ovvio Esattamente, io e Luca saremo i professori Fereniki ed Espy saranno gli alunni Che sciagura! Ne succederanno di tutti i colori, quindi preparatevi a questo video È davvero un qualcosa di incredibile Ci saranno lezioni di scienza, di storia, di matematica, di inglese Mensa, pc, tutto, tutto quello che potete immaginare in una scuola ci sarà Quindi preparatevi e voletevi il video E ovviamente passate dal canale di Espy Giochi come sempre Perché i video stanno uscendo davvero bene insieme a lui Ci sta facendo piacere un sacco lavorando insieme a lui E quindi merita tantissimo andare a vedere anche il suo canale Buongiorno nuovi studenti! Siete pronti alla vostra prima lezione? Buongiorno! 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 Aiaiai, sembra una banda di delinquenti questa Ma non siamo bande di delinquenti Scusi, come si permette di insultarci? Abbiamo una persona viola vestita da paperella che è, sai, inquietante E una ragazza che ha una collana d'oro Eh, ma quello è per affermare la mia posizione all'interno della scuola Signor Luca Professore, tenga nota, lei è la bulletta della scuola Andrà bacchettata spesso e volentieri Ok, sì, sì Lo sto urlando in faccia, non so se si capisce Ma lo sto urlando in faccia Sì, lui è Luca, il mio assistente professore Ma è vestito da pollo! Ma non è un professore così serio allora? Non prendetelo seriamente perché ha un po' modi strani di insegnare Però ogni tanto dice cose giuste, ogni tanto cose sbagliate Voi ascoltatelo quando ne avete voglia Ma sta facendo cose strane, io non lo capisco Seguite il vostro professore, leggete il mio titolo Il miglior professore del mondo Quindi con me potete andare su sicuro Esatto, esatto Il titolo dell'altro professore non dice la stessa cosa No, ci lo scondiamo, andiamo Dato che sono il miglior professore del mondo, sono anche gentile Quindi vi permetto di decidere la vostra prima lezione Cosa scegliete? Eh, Espy che scegliamo Ricreazione Sono d'accordo, corri, corri Espy Corri, corri Tira fuori le armi Tira fuori i coltelli Come le armi? Non sei mica in prigione? Come i coltelli? Mi sa che ti sei confuso Luca, stavolta non abbiamo nessun tipo di arma Allora, Espy venga qua, le mette una nota Immediatamente qui Espy ci stanno seguendo, dai torniamo indietro La nota ferisce più della spada, dimmi tu Allora, sedetevi nel banco che preferite Ignorate Gli ultimi sono sempre i migliori Gli ultimi sono sempre i migliori Allora, Luca stia alla lavagna? Anche Luca voleva sentire Stavo andando al bagno io Ai ai ai, questo professore davvero Non so perché me l'hanno dato Ok che abbiamo poco budget però Hanno esagerato un po' Allora, prima domanda Come si dice paperella in inglese? Prossima domanda Come si dice 15 in inglese? Oddio E balla Cosa sta accadendo? Oddio La smetta di ballare e risponda Io lo so L'ho trovato baccato Ok, dica professore È pollo Cosa? Ma lo volevo dire io Non puoi fregarmi le risposte così Grazie Grazie a tutti Allora Espi si sia di nuovo Vediamo Ferinichi Lei cosa dice? Cosa sta a fare? Anche lei ha dei piccoli problemi Lei balla Fa casino Ma almeno risponde nel modo giusto Quindi per ora Almeno Ferinichi Sto compensando il pari di gastri Esatto Sto compensando Sta un po' bilanciando Allora Scusi C'è il signor assistente Che fa cose strane Secondo me è meglio cacciarlo Perché sinceramente Non capisce proprio nulla È davvero inutile Guarda Io prenderei Ferinichi Che un po' capisce qualcosa Espi lo lasciamo in un angolino E insegniamo soltanto a Ferinichi Cosa state dicendo? Niente 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 Stavamo dicendo che abbiamo Una lezione adatta a lei Ok La vuole provare? Oh che bello Facciamo le lezioni speciali adesso È speciale solo per lei Allora deve stare in questo angolino Così Girato verso il muro Ok Perfetto Stia lì Andiamo 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 Veloci Veloci Ma non è una lezione Lo state appandorando qua Veloci Veloci Facciamo la prossima lezione Indovinate un po' E ora della matematica Sì No Che è successo in quest'aula? Io mi metto qui Mi sono seduto Allora praticamente Gli alunni prima È proprio un lavoro frustrante il mio Ho un collega Tutto quello che vuole di mala matematica No Ficco la testa nel pavimento Come un istruzzo Comunque gli alunni Prima di voi Hanno spaccato tutto Perché si stavano annoiando Eh Ho notato Mi sa che il pollo Si è bloccato per sempre Dietro la libreria Alunni miei Visto che con la teoria Fate abbastanza schifo Proviamo con la pratica Oh che bello E facciamola Oddio Oddio Riesco a volare Riesco a volare Oddio È portata per il bacio Forse ho delle abilità nascoste Che non sapevo Nenchi di avere Allora Comunque Due contro due Alunni contro professori Espi corri Ok Luca Espi aiutami Fermalo Quasi Dannazione Vai Luca Passa Passa Attento Devi uscire dall'aria Prima di tirare No ferma la rubata Passa qui Passa qui Vai Espi No Bravo Luca Passa Fermo Luca Tira Espi Tira No Meno male Meno male C'eravamo vicinissima Ok Luca corri Cerco di lanciartela Vai Luca Ok Bravissimo No L'ha rubata Vai Luca Troppo addosso È canesso Che Ha segnato Non ci credo Non ci credo Cinque minuti per farne uno Ma ce l'abbiamo fatta Bravissimo Luca Guarda No Espi E la ruba All'ultimo Ok No Facciamo il 2-0 Facciamo il 2-0 La chiudiamo E la ruba anch'io Eccolo Ma perché mi esce Io non capisco Luca mi devi dare Ripetizioni di basket Ci sono cose deliziose Ma ve le dovete comprare No Ah con la pagheta Che ci hanno dato Ok Esatto Vai Vi tocca Spendere i soldi Cosa volete Avete pizza Hamburger Posso fare una domanda Sì certo Mi dica Perché l'altro professore L'ha detto Qui alla casa Perché è tutto buonissimo Professore cosa le prende Visto che Pollo cantonese Pollo col Vi devo dire La realtà delle cose Avete presente Che era un po' strano E non sapeva insegnare bene Eh sì certo Ok in realtà Non è l'insegnante Ma il cuoco Cosa Perché sta facendo un ballo adesso Perché quando sta in cucina È sempre felice Ho comprato questa cosa Che cos'è Credo sia un pancake Però Quella è disco volante Che disco volante Quella è frisbee Per giocare con cane Esattamente Com'è che posso bere questa beva Lui è l'esperto in cucina Quindi ascoltate lui Allora proviamo qualche altra cosa Tipo Magari con questo va meglio Guarda come mangio la pizza Vorresti anche tu la pizza Ma la mangio tanto io Ma guarda che il professor Io non ho una paghetta migliore Da tua Me ne posso comprare dieci Guarda Gnam Cosa Mi compro anche il gelato Guarda la faccia tua Gnam Cosa E adesso anche il disco volante Gnam E anche una dog Gnam Sono ricco Dobbiamo scappare Basta Non ne posso più di questa scuola No No Fai caso a una cosa Espy Sai che ore sono Le otto di sera Perché siamo ancora qui All'otto di sera Mio Dio Oh ma che bravi questi studenti Finalmente al primo banco Insieme Uno a fianco all'altro Sì abbiamo deciso No Vogliamo imparare Siamo proprio Qui intenzionati A vedere questa bellissima lezione di scelta Io vi dico Da professore sincero Avete fatto la scelta sbagliata Perché la cellula è proprio noiosa Però io provo a spiegarvela Sì ma vogliamo diventare intelligenti Ok Va bene E allora Adesso inizio la lezione Scusatemi se leggo Ma non me la ricordo Non mi criticate Per favore Tanto leggono tutti i professioni Esatto Esatto Brava brava Ci siamo capiti La cellula è l'unità morfo funzionale Cioè di forma e di funzionale Non ho capito quella parola Non so neanche io cosa vuol dire È morfo funzionale Ok è chiaro Vuol dire Ok Forma Non lo so Comunque La cellula è piccola Ok grazie Grazie della spiegazione Perché Wikipedia va lì Dice 40 righe di cose Ma in generale La cellula è una cosa Molto molto piccola Ma lei ha il cellulare Nascosto dentro la cattedra Eh sì Sì l'ho anche messo Non abbiamo Niente libri a scuola Ma chi gliel'ha dato la laurea Da professore Eh nessuno L'ha rubata Io Io gliel'ho data Eh me l'ha nata Luca Esatto Comunque Allora per ora Tenete a mente Che la cellula è piccola Ok Ah ma quindi Per fare un esempio È piccola Come il cervello Del mio compagno Brava Brava Grazie Allora ho capito tutto Ho capito tutto Per i nichi 10 Per i nichi 10 Perfetto Andiamo avanti Allora Alcuni organismi Come ad esempio I batteri O i protozoi Sono costruiti Da una singola cellula E definiti Unicellulari Sì Scusi Mi dica Ma protozoi a chi Perfavore Non propenda Ti voglio fare una domanda Ok Che cosa cambia Secondo te Tra le cellule Unicellulari E quelle pluricellulari Pluricellulari Perché sono Unicellulari E perché sono di più Bravo Bravo Ha capito Da plurale Perfetto Perfetto Quindi quelle unicellulari Cosa vuol dire plurale? Vuol dire più di uno Ah Ok Unicellulare E quindi solo uno Va bene Mi dica Mi dica signorina Mi dica Sulla sua sedia Posso andare in bagno? Eh Certamente Vada vada Posso andare anche in bagno? Nessuno li pulisce Però ci sono No 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 Uno alla volta Quindi aspetti che torni La signorina Ok Sì ma io sono Pluricellulare Quindi Ma quei bagni Sono pluricellulari Quindi ci possiamo andare In più Alla volta No no Non ha ben capito Allora Hanno delle cellule Pluricellulari Quei bagni Ok Ok Però Sono Monogami Che belle Quest'analogia Per capire meglio Le lezioni Esatto Molto chiare Poi spiegate Con grandi dettagli Comunque Lei è tornata Quindi può andare lui In bagno Vada pure Vada pure E non torni mai più Possibilmente Ah ok Valeva solo andare a giocare Per controllare se fossero Pluricosi Ah ok Ok Ah comunque Sì lo sono Stia tranquillo Alunni miei E anche professori Che fanno finta Di essere alunni Oggi vi spiegherò La storia dei consoli Dato che abbiamo Tantissimi consolini Che ci seguono Mi sembra giusto Parlare dei consoli romani Ok Sapete tutti Cos'erano i consoli romani Ah Erano Erano Le vecchie console Perfetto Allora Espi giochi Fino alla fine della lezione Smetti di parlare Grazie Erano un esercito Potentissimo No Ferini Chi so che Lei pensa solo Agli eserciti Nella storia Ma c'erano anche persone Che non combattevano E non faccia i muscoli No Sto facendo Victory Per dire che era La risposta giusta Ok Non lo era Non lo era Allora Vi spiego io Vabbè ma poi sono qui Per imparare Me lo deve spiegare Lei che cosa sono Nell'antica Roma I consoli In latino Consules Erano i due magistrati Che eletti ogni anno Esercitavano Collegialmente Ma che parole usano Su Wikipedia Porca miseria Allora Collegialmente Collegialmente Il supremo potere Civile e militare Ed erano quindi Dotati di Potestas Ed Imperium Anche in latino Vi faccio adesso Ma io vi ho detto Che erano potentissimi Bello Mi piace questa storia La magistratura Del consolato Era la più importante Tra le magistrature Maggiori Della Repubblica Romana Immediatamente Al di sotto Della dittatura Che era però Magistratura Solo straordinaria Questa è la definizione Che ne dà Polibio Polibio Anche lui Sì Espi È tipo Una domanda interessata Pluricellulare Polibio È l'unica cosa Che sei riuscita a pensare In tutto questo Espi Da quando abbiamo Parato delle cose Pluricellulari Non riesco a togliere Me dalla testa Mi è piaciuto molto È un sacco Che ti sono piaciuto Capito Però Non devi solo pensare Alle cellule Che sono dentro un corpo Devi pensare anche A ciò che quel corpo fa E dice Capito Ma lo sai che è qualcosa Fra i denti Mi sa che è una È un qualcosa Di pluricellulare Ma no Mi interessava Per una volta Che si parlava Di potenza e conquista Era l'unica Lezione che sinceramente Mi interessava Ed ero proprio Molto interessata E quindi non so Perché è finita così Lei mi preoccupa Sinceramente No Cioè sono molto interessata Guardi anche la mia collana Cosa le fa capire Scusi Non è che è per bellezza Questo è un titolo È un titolo Sì Sì Espi Poverino Le hai fuso Stendilo Sei un bullo Stendilo almeno una volta Così Mi scrocchio il collo E adesso lo pesto Però grazie Grazie Io mi giro dall'altra Così è come se non fosse Successo nulla Lo pesti per bene E lo faccio star zitto Per un po' Grazie Eh la lezione di scienza Gli è piaciuta tanto È rimasta proprio nel cuore C'è chi che con una bella botta Si dimentica pluricellulare Unicellulare E siamo a posto Direi che ci possiamo fermare Così con questo video È stato davvero davvero divertente Giocare questa mappa In compagnia Da soli Credo che sarebbe stato Pressoché impossibile Da giocare E volevo dire Che secondo me Ci sono ancora parecchie cose Che non abbiamo fatto Ah sì sì E quindi potenzialmente Un secondo video c'è Quindi vediamo un pochettino Se vi piace tanto Commenti Sondaggine Eccetera eccetera E valutiamo l'idea Ovviamente passate dal canale Di Espegiocchi Che è in descrizione E ci fermiamo così E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao 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 Autore dei sorrisi